Amici di Sportface, ben ritrovati. Oggi il nostro ospite per la rubrica 15 minuti con, è il mister Franco Colombo. Intanto, mister, ben ritrovato. Come sta? Bene, grazie. Bene compatibilmente con tutto, ovviamente, sì. Però sono qui a Bologna, è stato un periodo un po' così e così, però ora mi sembra che si stia risolvendo, via, piano piano. Come ha trascorso questo periodo? Ha riscoperto qualche passione un po' accantonata, messa da parte? Ma cosa vuole? Il giorno d'oggi, volendo passare il tempo, te la passi sempre. L'esempio è anche quello di oggi, no? In cui stiamo parlando a distanza. Esatto. C'è stato il boom di queste videochiamate, di queste riscoperte di vecchi filmati, insomma, tante cose. Anche un po' di aggiornamento sul calcio. Leggere un pochino, vediamo. Un po' ce la siamo passata, dai, poi stare in famiglia. Delle volte è molto intenso, a volte... Eh, sì, 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 ho capito. A proposito proprio di calcio, tornando agli inizi proprio della sua carriera e volendo focalizzarci un po' su quelle che sono state le sue esperienze, diciamo, cardine da calciatore, lei ha indossato per tanti anni le maglie di Bologna e di Avellino. Che ricordo ha di questi due periodi? Beh, insomma, Bologna è la mia squadra, la mia città, era il mio sogno da sempre, no? Quindi ho cominciato lì a 11 anni e sono arrivato fino a 28. E a 28 è uscito questo altro bel sogno che ho scoperto dopo di Avellino, che è stata un'esperienza veramente importante, perché mi ha dato la possibilità di riprendermi dopo un anno così così, col Bologna, dove eravamo a retrocessi. E quindi riuscire a ritornare in Serie A e a ritornarci poi con una squadra che aveva alle spalle un pubblico, una regione intera, non dico una regione, ma una provincia sicuramente con un tifo eccezionale. Quindi siamo stati un po' gli ambasciatori di questa provincia, di questa città che voleva risorgere, che era Avellino dopo il terremoto. E lì, ecco, proprio a livello di cambio di abitudini, di quotidianità, in cosa l'ha avvertito maggiormente? Cosa ha avvertito maggiormente la differenza tra una città come Bologna e una come Avellino? Beh, insomma, il fatto che ad Avellino va in giro, andavamo in giro ed eravamo i calciatori dell'Avellino, i rappresentanti della città nel mondo del calcio, quindi eravamo personaggi veramente a tutti gli effetti, tutti ci fermavano, ci chiedevano, a parte l'autografo, la fotografia, oppure anche solamente scambiare due chiacchiere. L'obiettivo era che facimmo domenica, questa era la frase tipica. E' questo, quindi era un modo di approcciare la professione diversa, proprio, ti sentivi investito di una grossa responsabilità. Non che a Bologna non lo fossi, perché era la mia città, però il sud è diverso. E in quegli anni, o meglio nel periodo in cui lei è stata a Bologna, e quello in cui poi dopo qualche anno si è trasferita ad Avellino, è cambiato anche tanto il calcio in generale, sia in Italia che in Europa nel periodo del Bologna, all'inizio degli anni Ottanta c'era un po' il blocco Juve, che poi avrebbe trionfato sostanzialmente nei campionati del mondo in Spagna, mentre il suo ultimo anno ad Avellino, che è la stagione 1987-88, esplode il Milan di Sacchi, quindi completamente un altro tipo di modo di intendere il calcio. Lei questo passaggio se lo ricorda bene? Sì, devo dire, è stato abbastanza marcato questo passaggio, per cui Sacchi ha avuto un sacco di proseliti, un sacco di allenatori che poi hanno impostato le loro squadre in una certa maniera. Quindi ecco, diciamo, c'è stato questo cambiamento. Io quando ho finito di giocare ad Avellino, poi sono andato a Modena, e quando ho smesso di giocare a Modena l'ultimo anno, nel 90, sono stato anche 15 giorni da Sacchi a fare così, una specie di stage, per toccare con mano questi cambiamenti. Devo dire cose interessanti, però ritengo che vadano sempre accompagnate a quello che è un discorso di qualità dei giocatori, perché il calcio è cambiato, tutto quello che si vuole. Sicuramente a livello fisico ci sono allenamenti molto più intensi, molto più, così che ricercano, di qualità fisiche. Però credo che il calcio poi alla fine sia sempre legato al tipo di giocatori che hai, dove tu devi essere bravo a modulare proprio la tua squadra in funzione dei giocatori che hai. Per quello che invece riguarda la sua vita da allenatore, prima di arrivare, ci arriveremo tra un po' alle esperienze più recenti, quindi immagino che un posto dove ha lasciato il cuore sicuramente è stata Reggio Calabria, perché dopo un'esperienza in Serie A con il Vicenza, se non vado errato, poi proprio il lancio, diciamo, a livello di quello che poteva far vedere, di quello che poteva trasmettere attraverso il suo modo di intendere il calcio, è stata proprio la regina. Di Reggio Calabria invece cosa ricorda? Beh, Reggio Calabria è una tappa importantissima. Ci sono stato in B il primo anno, nel 97-98, abbiamo sfiorato anche lì la promozione, poi sono andato a Vicenza e l'anno dopo sono ritornato a Reggio Calabria per tre anni. Reggio Calabria rappresenta per me l'esempio tipico della programmazione societaria che dovrebbe fare qualsiasi società, vale a dire mi sono trovato in Serie A, quell'anno lì, il primo anno, facendo un contratto triennale con il quale Presidente, Direttore ed allenatore, tutti assieme hanno sottoscritto questo accordo di fare una squadra che se si fosse salvata, bene, nessun problema, fosse retrocessa, non avrebbe patito questa retrocessione avendo una squadra in grado di poter risalire subito. E così è successo, il primo anno ci siamo salvati bene, la regina di Pirlo, di Baronio, di Callon, di Cozza, di Mogdani, di Stovini, Cirillo, Morabito, di questi ragazzi la Serie A l'avevamo visto in pochi, però insieme all'abnegazione, alla volontà, al sacrificio di tanti dei componenti del gruppo uniti alla classe e alla qualità di Baronio, Pirlo, Callon e Cozza, ecco questi erano i giocatori più qualitativi della Rosa, l'abbiamo fatto bene. L'anno dopo invece persi questi calciatori, si è fatta un'altra squadra, abbiamo perso la Serie A allo spareggio, perché bisogna dirlo contro il Verona, vincendo una partita, perdendo l'altra, però per i gol in trasferta si sono salvati loro. E questa retrocessione poteva essere la fine di un ciclo e invece è stata la molla che ci ha fatto risalire subito perché c'era l'orgoglio di chi si riteneva ingiustamente il retrocesso l'anno prima e questo ci ha permesso di rivincere il campionato. Dopodiché si è esaurito questo ciclo, anche se poi sono andato a Napoli e sono ritornato ancora a Reggio l'anno dopo. Però insomma era finito un ciclo, però all'insegna di quello che avevamo detto, vuol dire provare a salvarci nell'eventualità della retrocessione e poi risalire, così è stato. E quindi è l'esempio che dovrebbe essere ad esempio... Caratterizzare un po' tutte le società, sì. Poi la Reggina ha continuato gli anni dopo con Mazzari, ha fatto buoni campionati. Sì. Campionati anche. Di questi... Beh, la base è avere una società alle spalle che sappia proprio scegliere. Sì, una cosa di cui si parla tanto quando si parla di calcio è inevitabilmente quella del rapporto tra allenatore e calciatore. Lei da allenatore di squadra ne ha allenate tante, ha avuto a che fare con tanti ragazzi, anche dal carattere fumantino, diciamo, per voler essere teneri. Tant'è che a Bologna nel 2009 si ritrova ad allenare anche Pablo Daniel Osvaldo, che è un ragazzo che tutti abbiamo, diciamo, imparato a conoscere anche per quello che ha fatto fuori dal campo, oltre che per quello che dà in campo. Che tipo era lui e in generale quando un allenatore ha a che fare con calciatori con questo carattere, qual è il modo, secondo lei, migliore in cui potersi comportare per gestirlo? Ma la medicina esatta non c'è mai, si tratta di valutare se ci sono margini, no? Perché a volte ci possono essere i margini, anche se uno ha un carattere particolare per poter entrare nelle sue, avere la chiave anche per lui. Se percepisci che non ci sono, la cosa migliore è cercare di così, che si risolve il rapporto con il giocatore, perché altrimenti si rischia di rovinare tutto. Specialmente quando arrivi a campionato in corso, a campionato in corso a Bologna, e io avevo Divai, avevo Zalageta, avevo Ada Hilton, professionisti, gente navigata. Una bella squadra, sì. Quello che si doveva fare per provare a salvarci. E poi c'era lui, che invece era diverso come atteggiamento. Non è neanche per le difficoltà che potevo incontrare io, quanto il rapporto anche con gli altri, no? Se c'è un'impronta di un certo tipo, da tanti anni nella testa di determinati giocatori e dell'allenatore, arrivi tu, vuoi sconvolgere questo rapporto e non va bene. E allora è meglio fare cambiare aria. L'ho fatto con diversi giocatori lì, perché erano giocatori maturi, che però non accettavano magari di stare in panchina, perché insomma non confaceva più alle loro aspettative. E allora è meglio che si cambi squadra. L'allenatore sta bene, i giocatori, i compagni di squadra stanno bene. E non c'è la possibilità che venga minato uno spogliatoio. Andando un pochino avanti con gli anni, lei poi invece nel 2014 ha vissuto un'altra avventura molto particolare, molto singolare, che pensando ai tempi di cui abbiamo parlato ora, quella della fine degli anni 90 e inizio degli anni 2000, era probabilmente impensabile anche solo immaginarla, che è quella di andare ad allenare in India. Alpune, quindi chi meglio di lei può raccontarci come si vive il calcio da quelle parti, come è il calcio in India. Ma guarda, è stata un'esperienza bellissima. Io pensavo che fosse un valore aggiunto, no? Sì. Sotto il profilo dell'esperienza lo è stato. Mi sono accorto che è stata una diminuzione di valore quando sono rientrato in Italia, perché da quel momento obiettivamente cose importanti non ne ho più avute. E questo mi dispiace perché credo che veramente è andare avanti con gli anni, a meno che non siano 85. Sia il valore aggiunto è proprio quello dell'esperienza per un allenatore. Invece non è stato così, e questo mi ha lasciato un po' deluso, devo dire. In India c'è un calcio che sta cercando di arrivare ad un buon livello. Per ottenere questo sono stati chiamati allenatori stranieri, sono stati chiamati calciatori stranieri. Io portai Cirillo, Belardi, portai anche mio figlio che a quel tempo giocava ad Ascoli in Serie B. Quindi hanno fatto bene. Unitamente ai big che a quel tempo io avevo tre seghe, c'era Del Piero, c'era Pires, c'era Zico, Materazzi, anche stesso che allenavano squadre in India. Quindi il tentativo di importare un calcio di qualità per poter far appassionare il pubblico e per poter trasmettere qualcosa ai giocatori indiani c'è stato. Ora sta ancora andando avanti. Il mio è stato un anno solamente perché poi la Fiorentina, che era la partnership del Pune, ha abbandonato questo percorso per cui ho abbandonato loro o ho abbandonato anch'io. Però è stato bellissimo. Devo dire che i calciatori indiani hanno una voglia di imparare pazzesca, sono sempre disponibili a tutti, a tutto quello che c'è da fare, non creano nessun problema, anzi ti chiedono, domandano, vogliono imparare. Questo è già una base importante. Di sicuro, pensando a quello che nel calcio americano è successo dagli anni 70 in poi, ci vorranno, secondo me, una ventina d'anni perché si possa migliorare il livello. Devono cominciare dal basso, con le accademie giovanili, i settori giovanili, insegnanti validi. Non hanno la strada, oddio, ce l'hanno la strada perché lì vivono in certi quartieri che sono la maggior parte ancora per strada, però, insomma... A livello invece di tifo, di trasporto del pubblico, di stadio... Tifo e tifo si sono lasciati prendere dal nostro, tanto è vero che anche lì hanno formato club, hanno formato gruppi di appassionati. No, no, c'erano gli stadi pieni, d'altronde in città anche di 25 milioni di abitanti trovare 50.000 che vanno allo stadio è una passeggiata, non è che ci voglia molto. Per cui è stato pubblicizzato tantissimo sui social, sui media, le televisioni mandavano calcio continuamente, tutte le nostre partite ripetute un sacco di volte. Quindi l'obiettivo sotto questo profilo è stato raggiunto. Ora devono migliorare la qualità dei giocatori. L'ultima domanda per salutarci. Abbiamo ripercorso un po' e rivissuto, anche se in superficie, il periodo della nostra Serie A a cavallo, diciamo all'inizio del nuovo millennio, fine anni 90, inizio anni 2000. E quello che si respira un po' oggi, di diverso rispetto ad allora, è non solo e non tanto il tipo di calcio espresso, e quello è ovvio, fa parte del cambiamento dei tempi, e quindi è normale. Ma forse un pochino di disinnamoramento, diciamo, da parte della gente, delle persone. Per lei è stato un percorso normale, un processo normale, o c'è qualcosa che manca di quegli anni lì e che è possibile e doveroso recuperare anche un po'? Ma credo che per quelli come noi, come me, ma come te, perché tu sei il progetto, per quelli come me, che hanno qualche anno in più, il cambiamento c'è stato, non è più, c'è un disamoramento, non è più lo stesso calcio che appassiona, perché noi abbiamo vissuto veramente quello storico, quello che loro, cioè io, per dire, io calciatore, mi lucidavo le scarpe, io calciatore, mettevo a posto la mia roba, mi facevo tutto da solo, dormivo col pallone sotto al letto, per dire da ragazzino, ora non è più così, non è più così, ci sono mille distrazioni, mille cose che distraggono anche il giovane calciatore, quelli già professionisti, anche loro, ogni calciatore ha una piccola azienda, in poche parole, perché c'è il procuratore, fanno i contratti di 3-4 anni, ci sono gli sponsor, non è più come prima, il calciatore è prima da solo, io per fare un triennale l'ho fatto a 30 anni, perché cominciavano i contratti di 2-3 anni, ho fatto il primo, ma senza procuratore, senza nessuno, ora invece gestiscono un po' i procuratori, i presidenti scavalcano anche direttori sportivi, hanno loro il rapporto privilegiato, il pubblico una volta era a contatto diretto con i calciatori, ora invece ci sono le barriere, anche lì è tutto diverso, via, quindi ci vuole, nelle province ancora forse c'è qualcosa che riesce a mantenere stretti questi rapporti, però ecco, sono rare, per cui credo che ad esempio sono in contatto ancora con Avellino, con Reggio Calabria, di ora ci sono entusiasmi che al nord non ci sono, solamente è rarissimo, per cui il sud può fare molto, a mio avviso, per far ritornare questa passione, questo appassionarsi al calcio. Va bene, allora è stato un piacere rivivere poi insieme non solo le tappe della sua carriera, ma provare a respirare anche un po' di quel calcio che oggi, diciamocelo anche onestamente, un po' ci manca. Grazie, mister Colombà. Grazie a te, arrivederci, in bocca al lupo. Grazie a te,